E one, e two, e one, two, three, four Every little thing that you say or do I'm sputtane, I'm sputtane on you Ciao ragazzi ragazzi, eccoci finalmente arrivate con un Vlogmas, il numero 20 Un po' diverso rispetto al normale perché siamo tornati nella mia cameretta Semplicemente perché invece del vlog Oggi vi beccate un nuovo episodio di Confessions on a Bedroom La mia rubrica dove, anonimamente, voi mi dite tutti i vostri segreti Ma quelli proprio più segretissimi che non sa nemmeno la vostra o il vostro migliore amico Ma li dite a me che poi verranno sputtane per tutto il mio canale Quindi andate a mettervi comodi, mi raccomando mettete like, iscrivetevi Andate a prendere il vostro snack o bevanda preferita Ma prima di iniziare, ovviamente, vi ricordo che esiste ancora il mio calendario dell'avvento personalizzato E quindi linea al Cristiano Natalizio per aprire la casella numero 20 Ciao Cristiano dalla camera, eccoci qua per scartare la casella numero 20 del nostro calendario dell'avvento personalizzato Andiamo a vedere che cosa il fato ha voluto regalarci oggi Oh, il mio portafoglio Oh, finalmente! Louis Vuitton, non ve lo vedete? Ok Even if nothing more I made you look I made you look Eccolo qua Louis Vuitton nel mio personale Sarebbe stata la casella numero 18 Quindi, su per giù, ci siamo Ma, ragazzi, ragazzi, ecco i brillantini a dove vengano Dalle pallette Ok, vabbè Veniamo a noi perché In realtà non c'è niente di straordinario, raga Ma, ho preso una cosa che volevo da quando l'ho vista, da quando l'ho annusse Quindi che cosa potrà essere, ragazzi? È il profumello Ho voluto prendere il profumello È il profumello Andiamo ad aprire vendita questa scatolina fatta così Solo che questo osso blu dà la noia Tra i vari che ci sono disponibili Ho optato per Meteor Ma che bello che, secondo me, è il più buono di tutti A parte di tutti loro Ma anche il più buono in assoluto L'unica cosa è che Come si apre una scatola? Perciò Così? O come si apre questo osso? Vabbè c'è qualcosa? Ah, fermi Così? Dite Ah Oh, che strano Oh Eccolo Ma bellino Ma ragazzi Ora mi si rompe, sicuro Mi si rompe Sicuramente Eccolo qua Ma che carino Bluet L'ho preso da 100 ml E È fatto così Ed è super Super Mamma, com'è buono Lo amo Questo finalmente potrà essere il mio profumo Dato che il campioncino l'ho finito in un giorno Il mio profumo per il prossimo mese perché poi finirà Ma la cosa carina che mi hanno detto loro È che Una volta finito io posso portare il boccetto lì e me lo ricaricano Penso pagando ma piuttosto che comprarne uno nuovo L'avevo messo al contrario Ti danno la ricarica Bellino, bellino Finalmente posso anche essere profumato Adesso Cristiano della camera Linea a te Fatemi sapere se vi piace quello che abbiamo trovato E se lo conoscete soprattutto Anyway Siamo pronti per iniziare Anche questa volta mi avete scritto tantissimi commenti Tantissimi segreti Ma tra un segreto e l'altro C'erano anche messaggi che centravano poco o nulla con i segreti Non vi preoccupate Un'altra puntata delle domande anonime Verrà fatta ormai a gennaio Quindi tenetevi quelle domande che mi avete già fatto per gennaio Mi raccomando Ma andiamo ad aprire il primo E spero che siano dei segreti super succulenti Anche perché siamo nella Christmas Edition Spero che ci sia anche qualcosa di natalizio Iniziamo Soffro di colon irritabile E una volta ho rischiato davvero 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 Di cagher addosso In mezzo a mille persone Da allora non vado più dove non ci sono bagni vicini Si riaccia subito bene Con dei problemi un po' così Frizzicarelli Allora ti capisco bene Non per il colon irritabile Ma per il fatto della cacchetta Io infatti una delle mie più grandi ansie Sono proprio quelle Cioè è proprio quella Nel senso di dover uscire di casa Ma andare in un posto dove Vuoi o non vuoi Mi vergogno no Andare in un bagno Metti caso che mi deve scappare quella cosa no È un problema però Raga Imodium E si va Mi sento uno schifo perché Nonostante la laurea Non ho un lavoro Vedo i miei coetanei Tutti più avanti di me Allora Qui C'è po' da di Se non Non è una gara La vita non è una gara Ricordate Ve lo dico da sempre Se i tuoi coetanei Sono più avanti di te Significa che hanno avuto Magari delle occasioni Che te al momento Ancora non hai avuto Ma arriveranno Te Lavora Su te stesso O su te stessa Cerca un po' Di migliorare No Questa roba Perché Se si sta fermi A guardare La nostra vita Che passa Senza far nulla E ha voglia di lamentarsi Bisogna cercare un attimo Di prendere in mano La nostra vita No E quello che vogliamo fare Metticela tutta Non demordere mai E vedrai che poi Questi coetanei Li superi Anche se ripeto Non è una gara Inizialmente pensavo Che fossi caffone Ora ti adoro Ma io sono caffone Forse mi adori Proprio per quello Andiamo avanti Ti dico la verità Ti ho sempre apprezzato Estimato Ma ho notato Che anche tu Ultimamente Hai omofobia Interiorizzata Quel commento Su Ciao Darwin Potevi risparmiartelo Perché è fastidioso Solo perché Eccessivamente effemminato Ma non eri contro Queste cose Non hai capito Quello che intendevo Allora Per chi non lo sapesse Su Trez Durante una puntata Di Ciao Darwin Hanno chiamato Un ragazzo A fare La macchina del tempo E io ho scritto Andiamolo A recuperare Perché così Almeno Lo spiego Una volta Per tutte Dove era Dove era Ah ecco Il tizio Dell'occulto Alla macchina Del tempo Sta palesemente Fingendo Per emulare Quello di qualche Anno fa Teso Sei fastidioso Allora Non penso E non pensavo Di dover spiegare Una cosa del genere Perché io ho scritto Tutto quello Che dovevo dire Non è fastidioso Perché eccessivamente Effemminato Ma mi importa Una seppia di uno Com'è Ve l'ho sempre detto Anzi sono stato Anche il primo A Avere A dover combattere Contro queste robe Perché delle persone Magari nemmeno Volevano diventare Mia amica Perché io Smanacco troppo Ci mancherebbe altro Io ho scritto Che è fastidioso Perché il suo Atteggiamento Non era lui Era falso Almeno quello Che penso io Quello che ho percepito io Era eccessivamente Sopra le righe Non perché La sua personalità È così Ma perché Era in televisione Si doveva far vedere E voleva emulare Quello Il ragazzo Di cui ora Non mi viene il nome Che è diventato Super virale Facendo anche lui La prova La macchina del tempo Facendo ridere tutti Quindi Io l'ho presa Come una forma Di emulazione Ma Tutto questo Lo rendeva Noioso E lo rendeva Fastidioso Ma non c'entra nulla L'atteggiamento Effemminato Mi importa Una seppia Raga Cioè È quello che penso io Punto Non l'ho mai detto A nessuno Ma la mia prima volta È stata a Londra Durante una vacanza A studio Io ero Un ragazzo Di 18 anni Lui un uomo Di 45 L'ho conosciuto in palestra E mi ha invitato A casa sua Visto la differenza Di età Ci sono andato Con l'idea Di un perempempino Ma quando sono arrivato Continua Bisogna Trovare Eccolo Nel suo appartamento Un superattico Con vista Su Tower Bridge E dopo aver bevuto Una bottiglia Di champagne Mi si è aperto Ogni rifizio Ma mi sa che questa storia L'abbiamo già letta Alla fine Era un importante politico A volte mi sento pentito A volte Sono felice Di essermi goduto La serata Ma ho paura Ma ho paura Di essere giudicato No Allora giudicato Ma chi se ne frega Se ti giudicano Hai fatto bene Se ti sei sentito Di fare così Hai fatto benissimo La cosa che ti dico io è Ma scusa Ti si è aperto Qualsiasi orifizio Dopo che hai scoperto Che era un importante politico O comunque Hai visto che Aveva una casa E quindi Aveva anche Delle disponibilità È lì che hai sbagliato Lì ti si doveva chiudere Perché te la dovevi Un po' tirare Dovevi fargliela annulsare Un pochino Per far sì Che lui perdesse Un attimino Il capo per te La testa per te E così Iniziare Una breve frequentazione E farti regalare Tantissime borse Lì Tutto lì Poi per il resto Hai fatto bene Qualche tempo fa Mi sono riavvicinata Ad un mio amico Dopo anni Avevamo ricominciato A scherzare Come ai vecchi tempi Ma quando ha scoperto Che ero incinta Si è allontanato di nuovo Non capisco Perché si comporta così Prova qualcosa per me Cri aiutami tu Non lo so Io dovresti chiedere a lui Certo non è molto normale Bisogna vedere La prima volta Che si è allontanato da te Si è allontanato Perché magari te Ti sei fidanzata Con qualcun altro E poi Si è riavvicinato a te Perché te ti sei mollata E eri single E si è riavvicinato a te Perché Siamo sicuri Che è proprio per il motivo Perché sei incinta Perché se no Qualcosa Bolle in pentola Però E ci devi parlare Io ti posso dire Secondo me è così Secondo me è cosà Ma non lo conosco E non so la situation Vorrei essere lo schiavo Del mio migliore amico Perché non sei il mio migliore amico Avrei giusto appunto Da pulire tutta casa Faccio tanto la superiore Intellettualmente Ma i tuoi video Sono il mio guilty pleasure Ma perché i miei video Non sono intellettuali Tutti i drama Degli spill in the tea Comunque Brava Mandalo anche Manda i miei video Anche a tutti gli altri Intellettuali Così fate un Come si chiama Invece del Del club del libro Il club di Cristiano Cervini Una con cui mi sentivo Mi ha riscritto E mi scrive Come non ha mai fatto prima No Aspettate Una con cui mi senti Una con cui mi sentito Mi ha riscritto E mi scrive Come non ha mai fatto Punto Prima stava con una Mo invece Si è lasciato Con uno Ma non si capisce nulla E non so Che fare Perché non ha mai fatto così Io non ho capito Se questa è una ragazza È un ragazzo Se stava con un ragazzo E poi con una ragazza Non ci ho capito niente Amo La mia ex migliore amica Dice di voler tenere il cuore Ma mi ignora Se mi vede Oh scusa se rido Ma ora poi se lo dico Mi ignora se mi vede E sembra scocciata Se le parlo Che faccio Cosa significa Vuole tenere il cuore Cioè Gli hai regalato Un cuorecino E quindi lei dice Siccome Siamo amiche Però Faccio finta Di non conoscerti Se fa finta Di non conoscerti Allontanati Chi se ne frega Del cuore Poi qualunque cosa sia Sogno spesso ladri Mostri O Annanini Che vogliono Togliermi la vita Ma Ma hai guardato su google Cosa significa Sognare questa roba Perché ha un significato Per forza Cioè C'è qualche cosa Che non va Mi vergogno Di qualunque cosa faccia E provo Una sorta di pena E compassione Nei miei confronti No Ma perché Ma che hai fatto No Allora Quando ci sono queste robe Secondo me È molto consigliabile Andare a parlare Con qualche psicologo Così Ma tanto per scoprire Perché magari Te hai questa cosa Per via di cose passate Che forse La tua mente Ha cancellato E le ha nascoste In un angoletto Per non farti soffrire Inutilmente Ancora Però Devi andare Da uno specialista Secondo me Una volta Al compleanno Della mia migliore amica Del cuore Restavamo giocando A nascondino Ed ho baciato Il suo tipo Spero che Lo Tu lo abbia fatto Quando eravate All'elementare Perché Se no Boh Ma non per il nascondino Perché hai tradito La tua migliore amica Per due anni Ho finto di avere L'influenza Per le feste Natalizie Per non andare A nessuna festa Né di amici Né di parenti E starmene in casa Per conto mio Oh Te potresti essere Il nuovo Grinch Comunque Che bello sarebbe Ora Non per i parenti Ma per tutte le varie Scene Vediamoci prima delle feste Ma se non ti ho visto Per due anni Ma perché Ti devo vedere adesso Hai ragione Ho rovinato La relazione Del mio ex fidanzato E della sua ragazza Rivelando a lei Dei messaggi compromettenti Che lui mi inviava Ad oggi Mi sento in colpa Perché credo Che non le avrebbe Che non l'avrebbe Tradita Concretamente È uguale Ma se sei comportato male Dipende Bisogna vedere Allora Perché questa tua vendetta È stata fatta Perché lui Ti ha lasciato Per questa nuova E quindi così Due piccioni con una fava Ti sei vendicata di lui E hai salvato lei Tra le altre cose Oppure L'hai fatto semplicemente Perché Questa è arrivata dopo E sei gelosa E eri gelosa Che lui Si fosse rifatto Una nuova vita Ma nonostante quello Ti continuava A mandare messaggi Io te l'ho di idea Comunque Hai fatto bene Perché Hai salvato lei Inconsciamente Odio mia suocera E mia cognata Adoro Bellissimo Il mio ex Mi ha tradito E per punirlo Dopo averlo lasciato Ho mandato a sua madre Un video Che mi aveva mandato lui Quando stavamo insieme Mentre si Toccava Perché mandarlo a sua madre Ma che vendetta è No Non si fa Questa cosa Perché hai fatto revenge No no Niente raghi Qui ho sognato Di pempere Pemparmi Il professore di storia Dell'arte Ma perché Io non capisco Perché i professori Di storia dell'arte E le professoresse Di storia dell'arte Vanno per la maggiore Anche il mio Era affascinante Oddio Arrivederlo ora Però all'epoca Non era bello Però Ti affascinava No Cosa sto dicendo Raga Niente Io sto parlando Di filosofia e storia Storia dell'arte C'avevo una Che Ok Come non detto Faccio finta di niente Fate finta di niente Era la mia prima volta Che dormivo Dal mio ex Finanzato Io 18 anni Sognai Di essere in un bosco A far pipì E invece Gliela feci nel letto Mi stegliai subito E misi sotto Al lenzuolo Un asciugamano In tutto ciò Lui dormiva E non si è reso conto Di nulla L'indomani L'enzuola Lavate Mai confessato Hai fatto bene Non sai che questa è una delle mie Oltre a quella Che ti ho detto prima Anzi Più gradi Ma non dormi con qualcuno E far pipì Ma anche dormire in un letto Che non è il mio E soprattutto Il tuo ex Finanzato Non è Mark Che ti dorme così Perché nel caso Se dovessi farlo io Lo capisci subito Perché Appicciché Sono gay 19 anni Ma non ho ancora avuto Il coraggio Di dirlo a nessuno Neanche la mia migliore amica Amo Non c'è un'età O un tempo Di scadenza Quando te la sentirai Lo farai Lo sentirai dentro Se Sentirai la necessità Se no Amen Se stai bene te Stanno bene tutti Soffro di attacchi di panico E una delle cose Che mi riescono a calmare È se qualcuno Mi stringe i testicoli No Vabbè Morto Se qualcuno Scusami Se qualcuno Mi stringe i testicoli Ma ha contatto Pelle con pelle Quindi a mano nuda Sui testicoli nudi Di solito Lo fa il mio ragazzo Ma una volta L'ho fatto fare A un mio amico etero Non lo abbiamo mai detto a nessuno Beh Oddio ma te come ti sei reso conto Che quando avevi un attacco di panico Bastava fare così Per fare l'antistress Potrei studiare questa cosa Perché non è una cosa Molto Comune Diciamo così Perché E soprattutto perché Lo hai fatto Ah lo hai fatto fare al tuo amico Perché non c'era il tuo fidanzato Ma il tuo amico ha accettato Di fare questa cosa Cioè come gliel'hai detto Io sono molto curioso Perché È una cosa Curiosa No Te nel mentre che hai L'attacco di panico Gli hai Cioè gli dici al tuo amico Mi devi strizzare le bolse Perché Se no non mi passa E lui soprattutto Come fa a credere A una cosa del genere A non pensarla Come questo Ci sta a provare Perché Lo possono pensare No Sono curioso Di saperne di più Al prossimo box Di domande anonime Scrivimi Mi raccomando Sono calvo E sono cinque anni Che porto Un tupè Removibile Non se ne è mai accorto Nessuno Nemmeno amici Parenti O partner Nemmeno in intimità Lo tolgo solamente Quando sono completamente Solo Eh vabbè Se ti fa star bene Chi siamo Per giudicare Però Hai mai pensato Invece di fare Proprio il trapianto Potrebbe essere La soluzione Così Non devi star A pensare Mi danno Un budget Per i regali Aziendali E un anno Ho fatto dei regali Che costavano Meno di quanto Dichiarato Costassero Davvero E con il resto Mi sono comprato Un maglione Di armani Dicendo a tutti Che me lo aveva Regalato mia madre Morto Questa è una truffa Ma scusa Ma il budget Te lo dà L'azienda Ma l'azienda Poi non vuole Tipo gli scontrini Boh Non lo so Comunque Se ho fatto bene Ho fatto bene Bravo La prossima volta Ho comprato In una borsa Il mio stipendio È talmente basso Nonostante faccia Mille lavori in uno Che per pagare Le bollette Rubo Gli spiccioli Che guadagniamo Vendendo l'acqua Ai clienti Come farei a rubarli? Nel senso Io ti do due euro L'acqua costa un euro L'euro indietro Di resto Me lo devi dare Non l'ho capita Questa Però È una cosa Su cui dobbiamo pensare Qualche anno fa Mi sono Tocchicciato Guardando No Guardando un tuo video Dove stavi in tuta Ma qual era? La yoga challenge Sicuro Vabbè Con il mio ex Avevo una relazione Tossica È stata dura Staccarmi da lui All'improvviso Ho iniziato a frequentarmi Con il suo migliore amico Che aveva la fidanzata Ma perché? Le cose Non sono andate Come pensavo Alla fine Dato che ho chiuso Con tutti Ho detto al mio ex Quello che è successo Per farlo diventare Ancora più pazzo No Io sono contrario Devi andare col migliore amico Solo per vendicarti Non per fare altre storie Faccio vedere il tuo profilo A tutti i miei amici omosessuali Sperando che un giorno Si fidanzino con te E così Noi noi diventiamo Best Caschi male Perché mi odiano Sicuro Però Continua Non si sa mai In futuro Mi sono fatta Attacco idropompa Di Squirtle In gola Dal marito Di mia sorella Ma solo una volta Anche se lui ci prova ancora Io vi amo Perché Quando io penso Di essere strano Poi mi arrivano Queste cose Che se sono vere Tanto di cappello Mi piacciono ragazzi Asiatici E quando mi Sono in intimità Con me stesso Penso sempre Di fare pen pen Con un ragazzo asiatico E vabbè È una sua fantasia Sono un fallimento No Non lo sei L'unica cosa Che mi spinge a non È che ho paura Della morte Perché non so Cosa mi aspetta Anche se Sono credente Ho chiesto aiuto A uno specialista Ma non mi sento compresa Il lavoro L'università Le relazioni Con le persone La famiglia Sono stanca Non vedo un futuro Specialista Non ti senti compreso Io non voglio Entrare In questa ottica Perché è una cosa Seria Ma se non ti trovi Con lo specialista Cambialo Perché non è che Te vai da uno specialista E ti ci trovi bene Per forza Se ti ci trovi male Cambia E non ti devi vergognare Di quello Perché tanto Lo sanno loro Però no Brutto Quando faccio Penpen Con il mio Finanzato Immagino che lui Lo stia facendo Con un'altra donna Mi eccita Vengo sempre PS Ti adoro Ok È un'altra tua Fantasia Va benissimo Dopo essere stata Quattro anni In una relazione Con un uomo Venti anni Più grande di me Ed essere rimasta Virgin Una volta lasciato Sono andata a letto Al primo appuntamento Con un altro Di venti anni Più grande di me Ma è allora Scusa Ma che te la sei tenuta A fa per quei quattro anni Non ho capito Ho 17 anni E non riesco A lasciarmi andare Con nessun ragazzo Sia a livello fisico Che mentale Vedo i miei cotanei Riuscirci Non so cosa fare Innanzitutto Smettila di paragonarti I tuoi cotanei Hai mai pensato Magari Che Non lo so Lo dico io così Ma sto ignorante In materia Tu possa provare A lasciarti andare Con una ragazza Invece che con un ragazzo Oppure Semplicemente Ancora non è il momento Ha 17 anni Cioè Hai tutta la vita L'amante Mi sono fatto Un papà di famiglia Ha detto che la moglie In confronto Erano le primissime armi Io vi amo Penso di avere Una piccola cotta Per un mio cugino Di secondo grado Secondo grado Che significa Non è propriamente Un tuo cugino È legale Si può Quel secondo grado Non è un cugino vero Vabbè Prova Io non ho detto nulla però Sono affascinata Da un uomo Che conosco Ma non bene Quindi Probabilmente Potrebbe Non piacermi Se lo frequentassi Sono sposata però Per me Non è un tradimento Fino a quando rimane così Chi se ne frega Nel senso Puoi fantasticare Cioè fantasticare Mica è illegale Non farci altro Raga Cioè Se sei sposata O lasci il marito Cosa te ne frega Basta Help consigli amorosi Vorrei scrivergli Ma risponde sempre A monosillabi Che dici Sono sottona Comunque sei bravissimo E ti sbatti sempre tanto per noi Allora Che consiglio vuoi? Vuoi essere offesa? La sei già la risposta Te la sei data da sola Smettila di scrivergli Smettila Non è interessato a te Stop Fatti questo regalo di Natale Il mio ragazzo Mi lecca i piedi E ogni volta Inonda tantissimo Io lo lascio fare Ma a me non è cita per niente Chissà se lo ha capito Mi bloccano tutti questi video Ragazzi Ma perché scrivete queste robe? Vabbè Un po' festicista di piedi Ci sta Se a te non ti piace Se glielo lasci fare Ti va bene Se non ti va più bene Ti dici Il mio ragazzo Mette like ai tuoi video Con account Rimasti loggati Sulla smart tv Del residence Dove viviamo temporaneamente Vuol dire Che a buon gusto Bravo Sono gay Ma mi eccitano solo I video etero È normale I maschi lì Sono più virili No Ripeto Ognuno ha le proprie preferenze Ho scoperto due ore fa Di aspettare un bambino Eccoci Allora Se sei felice Congratulazioni Sono contento Che tu abbia condiviso Questa notizia con noi Se non sei felice Congratulazioni uguali Uguale Pensaci E vedrai Che C'hai tantissime possibilità Di fronte a te Non è la fine del mondo Ti avevo scritto in passato Per mio fratello E la mia amica Che si erano messi insieme Io non ero d'accordo Perché lei Era appena uscita Da una relazione importante Andava di fiore in fiore Meno ricordo Si sono mollati Oh Io avevo ragione Ragazzi Fidatevi di sorelle e sorelle Che vogliono il vostro bene Vabbè Alla fine comunque Tutto è bene Quel che finisce bene Terri hai tuo fratello Tuo fratello si è salvato E lei è andata In un altro fiore Ho 28 anni Credo di essere bisex E credo di essermi presa Una cotta Per una mia amica Che ha 5 anni Meno di me Non so come gestire la cosa Ho paura Non devi aver paura Devi Cioè Posso capire Il timore Tutto quanto Perché ci siamo passati tutti Naga Non so come gestire la cosa Eh Probabilmente è una cosa nuova Ok Però Dipende Questa tua amica Ha conoscenza di questo tuo Essere O Magari È una cosa che ti sei tenuta per te Perché appunto Lo hai appena scoperto Questa tua amica È molto aperta Riguardante queste cose Oppure No E quindi Non potrai mai dirglielo Eh È una situazione un po Impo E Anche impo Cioè Importante Impossibile Però Non si sa mai Ora Piano piano Te continui a conoscere Te stessa Dentro di te E poi La tua amica Per il momento Io direi che Tu non debba dire niente Poi Se ti darò occasione Potrebbe nascere qualcosa Come anche no Trovo Trovo Ho copiato Ho copiato Praticamente a tutti gli esami universitari Sarai un ottimo dottore Un ottimo avvocato Qualsiasi cosa Tu abbia fatto Bene Sono molto contento Mi piace l'odore Delle scurreggie Del mio cane Ragazzi Io non ce la faccio Ok Questa era l'ultima Meno male Vabbè Ognuno ha i propri gusti Scusate Non voglio deridervi Anzi Non è per deridervi Però mi fanno ridere Ogni tanto ci sta No Questa Leggerezza No Questa scorreggezza Anyway Cose natalizie Ce ne sono state pochine Però Insomma Ci hanno dato Qualche soddisfazione Io Rimango sempre più Scioccato Da voi Dai vostri segreti Perché Quando penso a me stesso Dico Boh Ma come fa la gente a seguirmi Io sono pazzo Sono strano Poi leggo questo E dico Ah Ecco perché mi seguono Siamo tutti una grande famiglia Anyway Se vi è piaciuta questa puntata Natalizia Così si fa per dire Perché siamo quasi a Natale E la casella numero 20 Fatemelo sapere qua sotto Tramite commento E tramite un like Che per voi non costa nulla E non vi costa fatica Per me vale tantissimo Iscrivetevi al mio canale Se ancora non l'avete fatto Che dire Segretini E segretine Se volete anche Una prossima puntata A gennaio Subito Fatemelo sapere E io andrò Sulle storie di Instagram A mettere il box Dei segreti Mi raccomando Fatemi sapere tutto Ci vediamo domani Con un nuovissimo video Questa volta Vlog Vlogmas numero 21 Ciao 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 Ciao